Il primo punto di forza è il coinvolgimento degli esseri umani normali, l'avete visto anche voi con i vostri occhi. L'altro punto è la possibilità occupazionale. Il momento più toccante è stato a Vallecchia, questo paesino di 70 abitanti che ci ha accolto con praticamente tutta la popolazione al completo, è un segno di interesse rilevantissimo di cui ancora vi ringraziamo.